Noi su questo fronte abbiamo inteso operare con sostanzialmente tre leve. Il tema del presidio e della bonifica del territorio e quindi l'operazione ad alto impatto a Caivano, l'operazione che oggi è stata condotta contemporaneamente a Roma, Torbella Monaca e a Napoli nei quartieri spagnoli che ha visto impegnati 800 operatori delle forze dell'ordine ovviamente in operazioni di identificazione, sequestro di armi, sequestro di droga, eventuali relativi arresti, sempre con risultati latitanti, insomma con risultati che sono importanti anche perché è importante la diffusione e l'impatto che la criminalità purtroppo dimostra avere. La seconda leva, dicevamo, è una stretta sulla criminalità minorile perché si sta diffondendo a macchia d'olio tutti i fatti dei quali noi stiamo parlando vedono come protagonisti dei giovanissimi. Tutti i fatti dei quali parliamo vedono come protagonisti dei giovanissimi o dei minori. Le norme che noi abbiamo approvato, voglio dire anche questo, sono state molte, poi io tornerò su alcune di quelle che considero principali, ma le norme che noi abbiamo approvato sono per lo più frutto dell'interlocuzione che a Caivano abbiamo avuto con chi di questi temi si occupa quotidianamente. I giudici minorili, per esempio, ci hanno posto una serie di questioni che noi oggi abbiamo scelto di affrontare, quindi è anch'esso in continuità con un lavoro che abbiamo iniziato con la nostra visita a Caivano. Le misure, dicevamo, sono molte. C'è il tema dell'estensione del DASPO, c'è il tema dell'introduzione dell'ammonimento anche dai 12 a 14 anni. Qui ci torno perché ho letto un po' delle ricostruzioni un po' bizzarre. Vogliono sbattere in galera i bambini di 12 anni. L'ammonimento non prevede assolutamente questo. L'ammonimento prevede che per reati gravi ci sia un ammonimento e convocazione dei genitori. E i genitori possono essere chiamati in causa, in questo caso con una ammenda per la mancata, vogliamo dire, vigilanza nei confronti di questo minore. Ma non c'è il tema di sbattono in galera i bambini di 12 anni. C'è sicuramente il tema che prevediamo l'arresto in flagranza di reato, anche per alcuni reati per i quali non era previsto fino ad oggi, dai 14 ai 18 anni.